Il conteso della serata, il gran finale, il tocco di classe di un vero maestro dell'intrattenimento. Preparatevi ad applaudire il grande e inevitabile Squiddy! Ma che cosa fa? E' meglio non rimetterci troppo. Questi si che sono soldi ben spesi. Setti incompetenti, non sapete niente, io ho del talento. Sì, scappa! Sì, scappa! Sì, scappa! Sì, scappa! Sì, scappa! Squiddy, ora tocca a me entrare in scena. Certo, ora tocca a te. Basta! Bravo! Bravo! Il pubblico mi reclama, devo andare. Eh, ma ti ritorno, adesso tocca a me. Sì, scappa! Ho! Ho! Sì, sì, sì.